Come va con mamma? Hai mandato tutta a popolazione un'altra volta, vero? Eh? Eh, mi sa di sì. È sempre più fredda, non so perché. Non è che per caso ha un altro fidanzatino? No, ha un amico, Ivan. Un tempo stavano insieme. Adesso viene spesso a cena. A cena? A casa? Sì, lui cucina benissimo. Poi vanno in un'altra stanza a lavorare. Con la porta aperta? No, chiusa a chiave. Con una combinazione, no? Tipo stanza segreta. Fammelo vedere sto io, mamma. Ma è pelato come me? No, lui ha la barba. Mi compra sempre la cioccolata e mamma lo sgrita, come faceva con te. Dice che per caso fanno l'impollinazione. Dai, quella cosa delle api coi fiori, che fate voi grandi quando vi volete bene. Ma cosa vai a pensare? Ma qua l'impollinazione. Vai a letto, vai, vai. Te li sei lavati i denti? Io sì, tu non li hai lavati. Vabbè, ora dormi, vai. Che Pippo deve fare una cosa.